Ciao a tutti, oggi faremo recensione e unboxing del kit Lume Cube per GoPro. Lume Cube è molto più che una semplice luce LED. Oltre alle dimensioni super compatte all'estrema resistenza, è infatti infermeabile fino a 30 metri, dotato di sensore ottico e di connettività Bluetooth. Tutte queste cose ne fanno un accessorio ideale e versatile non solo per la vostra GoPro. Iniziamo con l'unboxing. Lume Cube ci arriva in questa bella scatola bianca che, aprendola, contiene una quick start guide, quindi una breve guida cartacea che contiene le informazioni essenziali per l'utilizzo. C'è anche un adesivo e un foglietto che ci ricorda che questo non è un giocattolo ma un LED ad alta potenza. Togliamo la gomma piuma e troviamo dentro il nostro Lume Cube. Servendoci poi di un accessorio, possiamo estrarre la gomma piuma dal fondo della scatola e prelevare il cavetto di ricarica micro USB. Al tatto è veramente molto solido e ben rifinito. Sembra veramente molto molto resistente. In effetti, spulciando i dati del produttore, ho trovato un video postato dall'azienda stessa in cui un fuoristrada viene fatto passare sopra, esattamente sopra, all'uncube senza che questo riportasse alcun danno. Se ha resistito al peso di un fuoristrada, sicuramente non temerà urti, botte e graffi. Come è strutturato questo gadget? Sulla parte superiore della luce troviamo i due tasti che permettono di controllarla e poi vedremo come. Mentre dietro c'è un vano d'accesso apribile, grazie ad una moneta, il quale, una volta svitato, ci permette di accedere alla presa micro USB per la ricarica. Infine, sul fondo, troviamo una vite da un quarto di pollice, utile per il montaggio di l'uncube su eventuali accessori. La potenza massima è di 1500 lumen e la batteria dura da un minimo di 40 minuti se usato alla massima potenza fino a diverse ore se usato a potenze inferiori. La ricarica completa della batteria a litio integrata si effettua tramite cavezzo USB ed avviene in circa un'ora e mezza. Unica cosa da prestare attenzione per garantire l'impermeabilità fino a 30 metri è ogni qualvolta si apre il portello posteriore per la ricarica assicurarsi di richiuderlo saldamente e di verificare che dello sporco non si sia inserito all'interno della guarnizione. La staffa, inclusa nel kit, permette di montare due lume cube alle estremità tramite due viti da un quarto di pollice. Al centro, invece, troviamo il classico slot per GoPro. Sotto, invece, c'è un aggancio che ci permette di attaccare qualsiasi grip, pole o cavalletto compatibile con i sistemi di montaggio GoPro. La qualità costruttiva generale è molto elevata. È chiaro che si tratta di un prodotto di qualità e non di una luce subacqua made in China. Le parti maggiormente soggette ad usura sono realizzate in alluminio, mentre la barra centrale a nido d'ape è realizzata con plastiche di ottima qualità. Vediamo ora come va montato. Per montarlo è sufficiente avvitare un lume cube sull'apposita vite da un quarto di pollice e poi stringere la ghiera. Montiamo anche il successivo. Stesso procedimento, avvitare il lume cube sulla vite e poi stringere la ghiera. Una volta montati i due lume cube all'estremità, possiamo prendere la nostra GoPro e inserirla nell'apposito slot al centro della barra. Ecco il nostro setup pronto all'uso. Lume cube può essere controllato in due maniere differenti. Manualmente, quindi tramite i tasti posti sopra al gadget, oppure tramite app dedicata, quindi attraverso uno smartphone. Può essere operativo in due maniere, o come luce continua, per registrazione di video o per semplice illuminazione, oppure anche come flash. Vediamo come funziona. Schiacciando il tasto di destra una volta si accende il dispositivo. Schiacciandolo una seconda volta si attiva la modalità di luce continua sull'intensità più bassa. Continuandolo poi a schiacciare, si scorreranno tutte le dieci intensità di luci disponibili. Per spegnere la luce continua è poi invece sufficiente schiacciare una sola volta il tasto sinistro. Con il dispositivo acceso, ad ogni pressione del tasto sinistro corrisponderà un flash. Per attivare il sensore ottico invece, è sufficiente premere il tasto sinistro per 5 secondi. Il sensore ottico permette di utilizzare Lume Cube come slave flash. Quindi, immaginando di scattare con una macchina fotografica separata, ad ogni flash proveniente dall'esterno, anche Lume Cube flasherà. Questa è una funzione molto utile per combinare insieme diversi flash. Vediamo ora come funziona il sensore ottico. Io farò partire il flash solo da questo Lume Cube, ma vedrete che anche quest'altro flasherà. Ecco qui. Vedete, io sto facendo partire il flash solo dal Lume Cube di sinistra, ma anche il destro flasherà. Per disattivare il sensore ottico saranno sufficienti altri 5 secondi di pressione sul tasto di sinistra. Per spegnere totalmente il dispositivo, è sufficiente invece premere il tasto di destra per 2 secondi. Come già anticipato, è possibile controllare Lume Cube anche tramite app. L'app gratuita permette di collegare fino al massimo di 2 dispositivi, mentre quella a pagamento fino a 100. Per attivare il Bluetooth, una volta che Lume Cube è acceso, sarà sufficiente premere una volta il tasto di sinistra, ovvero quello del flash, e attendere qualche secondo che il collegamento all'app avvenga. Al primo accesso che effettuerete vi chiederà di registrare il prodotto inserendo il numero di serie presente sulla scatola e la vostra e-mail. Una volta nell'app, vediamo come appare, eccola qui, i due puntini in alto a sinistra ci segnalano il numero di dispositivi collegati, ed è possibile scattare fotografie o video. Quando andiamo ad utilizzare la nostra app per scattare fotografie, vedrete che Lume Cube in automatico flasherà ad ogni singolo scatto. Stessa cosa per i video, ma in luce continua. Altro aspetto molto molto interessante è quello di poter regolare l'intensità della luce tramite app, controllare il livello batteria, red eye e auto sync. È un gadget molto molto interessante che qualitativamente non ha nulla a che vedere con altri luci GoPro, come questa, presenti sul mercato. Se siete alla ricerca di un kit luci per la vostra GoPro, ma non solo, questo è sicuramente un gadget molto interessante. Il prezzo è in linea con le altre luci presenti sul mercato, ma le sue caratteristiche sono decisamente migliori. Ed ecco alcune immagini dal test sul campo che abbiamo effettuato con Lume Cube. Primo video è stato realizzato in questa grotta, molto buio. Sono andato sott'acqua e ho ripreso, come vedete, un mio amico che è andato a respirare in una bolla d'aria all'interno della grotta. I colori, come potete vedere, sono molto molto vividi. Abbiamo scelto la grotta proprio perché era l'unico ambiente molto molto buio in cui potessimo filmare. Ovviamente tutti i video che vedete non sono stati ritoccati in alcun modo. Questa seconda clip invece è stata realizzata nel relitto cristo nei pressi di tavolara e nonostante fosse pieno giorno si può comunque apprezzare il grosso contributo dato dal Lume Cube nell'illuminare l'interno del relitto. L'ultima immagine che vi propongo è invece uno scatto notturno alle stelle. Ho utilizzato Lume Cube accendendolo per 2-3 secondi per illuminare gli alberi e dare un migliore contorno alla foto. Sì, prima ho detto se siete alla ricerca di un kit per la vostra GoPro, ma non solo. Infatti si tratta di un accessorio estremamente edutile che grazie alle dimensioni super compatte e alle vite da un quarto di pollice è montabile e utilizzabile praticamente ovunque. Eccone alcuni esempi. È possibile installare il kit Lume Cube su qualsiasi handle per avere ottimo controllo e stabilità di utilizzo o perché no modificarlo per renderlo una presa a U per ottime riprese dal basso o ancora montarlo su un cavalletto per avere delle riprese stabili, soprattutto di notte o con poche mosse trasformare il Lume Cube e posizionarlo su un singolo cavalletto oppure installarlo su un Joe per agganciarlo a qualsiasi piano o superficie o ancora trasformarlo in una luce da testa montandolo sulla fascia da testa per GoPro o ancora montare sopra la GoPro e sotto un Lume Cube oppure perché no il setup più completo cioè utilizzare il Lume Cube per illuminare la parte sommersa delle nostre fotografie e video fatti con il Dome.